Una città migliore vivibile con un alto senso di civiltà è un obiettivo non un'utopia e le iniziative messe in campo quali l'Anello Verde e Bike Night mirano ad agire sui comportamenti dimostrando alle persone che per esempio gli spostamenti urbani la bici è più competitiva dell'auto per tempi e costi. È impensabile immaginare che queste iniziative possano generare immediati benefici sulla riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti PM10 in primis. Tali attività genereranno effetti positivi solo dopo che i comportamenti di mobilità di un numero sostanziale di cittadini nocerini si orienterà verso la mobilità ciclabile e pedonale. A rimarcare la FIAB che in collaborazione con l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore si appella alla partecipazione dei cittadini. Se qualcuno ha solamente pensato che la messa in campo di una chiusura al traffico di un pugno di strade per due ore alla settimana possa risolvere la problematica inquinamento a Nocera Inferiore non solo ai fuori strada ma non ha per nulla compreso quello che si sta cercando di costruire. Anche il sindaco Maglio Torquado spiega finalità ed obiettivi che avverranno per step. L'Anello Verde è un piccolo pezzo di un ragionamento più importante che è stato fatto anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale in un question time dove la consigliera di opposizione ha richiesto all'amministrazione quali fossero le iniziative sia quelle di portata immediata sia quelle di portata di più lungo periodo per dare una mano a quella che è la condizione del traffico e il miglioramento delle condizioni di viabilità. Non soltanto la ciclabilità che è pure un obiettivo di pedonalizzazione, di miglioramento del percorso pedonale e viabile all'interno della città, il coinvolgimento della società che già ha svolto una parte del lavoro con le progettazioni per gli studi di fattibilità del piano urbanistico di mobilità, la previsione della rotatoria di ingresso in ambito statale autostrada per sbloccare il coinvolgimento del traffico, la realizzazione di un nuovo tratto viario alle spalle del Tribunale dell'ospedale in via di definizione il protocollo d'intesa con RFI penso proprio in questo mese si dovrebbe chiudere e poi anche una nuova viabilità parziale perlomeno sulla zona di Cicalesi con qualche piccolo tratto di sbocco e una nuova breve bretella di collegamento che però dovrebbe far defluire il traffico. Il tutto ovviamente va messo dentro una visione comprensoriale di progetto della nuova viabilità comunale e intercomunale. Nel frattempo l'assessorato all'ambiente è avviato con ARPAC per intensificare la presenza di centraline mobili di rilevamento dell'inquinamento di traffico e che permetteranno di avere un rilevamento più diffuso delle condizioni di inquinamento atmosferico e anche l'adozione di provvedimenti più drastici nella misura in cui questo sarà necessario.